È nato Crema Futura, un gruppo di persone eterogeneo che vuole contribuire alle prossime amministrative di Crema per una collezione più larga del centro-sinistra. Il nostro obiettivo è quello di entrare in dialogo con le varie associazioni e le varie realtà che rappresentano il mondo del centro-sinistra affinché dopo dieci anni di amministrazione del centro-sinistra si possa continuare con questa linea nella maniera più ampia e più partecipata possibile. Grazie